Fabrizio Frizzi, mistero sul malore, la famiglia chiede il silenzio. Secondo il noto blogger televisivo Davide Maggio, il capo della RAI, Mario Orfeo, ha dato informazione non veritiere sul reale stato di salute di Fabrizio Frizzi, che è stato ricoverato in ospedale martedì scorso per un malore durante la registrazione dell'eredità. Il DG Rai aveva scherzato col presentatore dicendo che sarebbe tornato presto in TV, invece ora sappiamo che Carlo Conti da lunedì prossimo condurrà al posto di Fabrizio il famoso Queen's Preserale. La RAI ha di fatto 15 puntate già registrate con Frizzi conduttore, ma non saranno trasmesse finché non si sarà chiarita la sua situazione. Il mistero sulla salute di Frizzi si infittisce dunque, mentre la famiglia chiede silenzio e ha imposto l'ospedale di non emettere bollettini medici ufficiali. Grazie. Grazie. Grazie.